come la fanno la pioggia nei film è tutto vero cioè aspettano davvero che inizia a piovere per girare una scena oppure ci sono dei trucchi che i registi produttori sceneggiatori e tecnici utilizzano sul set per darci l'idea che stia veramente piovendo sopra gli attori ma anche per creare tutti gli altri eventi atmosferici quali la neve la nebbia anche le tempeste che vediamo sempre più spesso in questi film catastrofici in tv sulle piattaforme in streaming ecco in questo video cercheremo di capire come creano gli eventi atmosferici all'interno dei film e delle serie tv beh non c'è dubbio che la comparsa del t-rex non avrebbe avuto lo stesso impatto visivo con quella maledetta pioggia tropicale nel primo indimenticabile jurassic park la nostra generazione tra l'altro a cavallo tra gli anni 90 e 2000 ha ancora impressa nella memoria la scena indimenticabile del bacio capovolto tra peter parker e la sua amata mary jane nel primo spider man del 2002 ma come si simula la pioggia nei film innanzitutto serve un bacino d'acqua naturale o artificiale poi si usano le cosiddette rain tower ovvero delle vere e proprie torri che prendono l'acqua dal bacino e la trasportano su un tubo altissimo che poi spara l'acqua in alto sotto forma di goccioline che poi cadono come pioggia come ha raccontato poi un addetto di hollywood agli effetti speciali molte produzioni si servono poi degli idranti antincendio dei camion per l'acqua sempre collegati al tubo di cui vi parlavo prima uno dei trucchi migliori per avere una pioggia realistica e assicurarsi che ci sia una buona retroilluminazione dell'acqua questo aiuterà a catturare le singole gocce d'acqua sulla fotocamera per rendere più verosimile la pioggia o per dare l'idea di una tempesta si usano poi dei mega ventilatori che si buttano in mezzo foglie farina d'avena e il gioco è fatto ecco questi mega ventilatori vengono sfruttati anche per simulare il vento nei film il problema di questi ventilatori è che fanno tantissimo rumore e quindi a volte alcune scene devono essere ridoppiate passiamo alla neve c'è stato un tempo in cui la neve finta era fatta di amianto sì avete capito bene quella tecnica è stata utilizzata in importanti produzioni come il mago di hoz adesso però conosciamo i dannosi effetti dell'amianto le produzioni contemporanee usano un prodotto non tossico e biodegradabile che si lava via con l'acqua dopo le riprese un'altra opzione interessante è quella di usare un ventilatore e la schiuma di sapone nella maggior parte dei casi però per simulare i fiocchi di neve si usa carta ritagliata finissima che poi viene sparata in aria con un meccanismo molto simile a quello delle rain tower per simulare la pioggia mentre per la neve già a terra viene spruzzata un po d'acqua che fa in modo di incollare i vari fiocchi al terreno infine la nebbia molti di voi diranno si può usare il ghiaccio secco in realtà esistono vere e proprie macchine per la nebbia oggi che permettono di simulare una nebbia sottile o più densa a seconda delle necessità di scena per le scene interne si utilizza acqua distillata in glicerolo che è un particolare tipo di alcol quando si vuole creare una patina nebbiosa bassa si raffredda il glicole con co2 liquida o azoto liquido mentre per le scene in spazi aperti ci sono delle vere e proprie macchine per il fumo che quando viene sparato in quantità minima sembra nebbia immaginate tante macchine per il fumo messe una vicina all'altra azionando le tutte insieme si produce tanta tanta nebbia ovviamente tecnici e cameraman coprono con apposite protezioni tutta l'attrezzatura onde evitare di danneggiarla e se gli effetti speciali non bastano si interviene con gli effetti grafici in post produzione insomma non c'è dubbio che ci siano tanti segreti dietro le scene che vengono girate al cinema e che riguardano gli effetti atmosferici fatemi sapere se conoscevate questa curiosità e se ne avete altre da raccontarci nei commenti qui sotto iscrivetevi al nostro canale youtube caccazione seguiteci su facebook e instagram dove tutti i giorni parliamo di film e serie tv al prossimo video